Ah, devo mettere un tappo, ecco. Ciao belli, oggi senza il capo! Aspettate che mi zoom un pelino. Ah, come state? Cazza che è scassato. Ho capito, ma Arianna, non sei di Napoli, smettila di fare tutto, eh. Buonasera, niente capo, no. Oggi, non è oggi, però c'era il complanno del Babbo Madia. Grazie, fosfolipide metilato. Passava da casa, passava. Anche se credo sia domani, ha detto che era domani, c'era il complanno, però ha detto, passo stasera così domani c'è. Io qui oggi, cioè, non ho mai smesso di girare vento, eh, qua. Qua qui era una bellissima giornata. La mia mamma è tornata, appunto, è stata su a Milano, dalle zone del capo, tra l'altro. Con il camper sono stati dalle zone del capo, però dopo andavano dentro. È tornata malaticcia, che si è presa tutte le intemperie del mondo. Eh, sì, che si è presa. Anzi, è andata bene che sono andati su a Milano, che non... Metti che andavano in Toscana da qualche parte lì, sarebbe stato un disastro, eh. Bene o male, se non era vicino ai fiumi, non c'è stato nulla di che... Qua, anzi, due giorni in realtà ha fatto anche bello. Venerdì e oggi era un bello. Grazie Silvio. Grazie Silvio. E tra l'altro mi sono fatto un pisolino poco fa. Oggi dovevo fare una marea di roba, non ho fatto niente. Certo, stamattina abbiamo fatto il gatto la moca. Dobbiamo fare le motte, più che altro. Grazie Luke. A chi le diamo? Grazie Darione, perché la Roby credo sia molto impegnata. Grazie Darione per il... Stigione sicuramente lo è stata. Tier 2. Sì, magari adesso che è finito Luca, magari è meno impegnata, però... Adesso vediamo. Comunque no, devo fare un sacco di roba. Se no, le diamo... Oh, vai, Ime e basta. Facciamo fare Ime. Se lo vuole fare. Dove c'è Ime in chat? Se c'è voglia di fare pure quel. Quelli le farei fare anche a qualcuno che non è la Roby, anche perché quelli che vogliamo fare... Cosa volevamo fare? Che ne avevamo parlato. Alla fine di artisti... Qualcuno alla Roby la dobbiamo fare. Anche Ricky, volendo che può... Qualcuno alla Roby la dobbiamo fare. Più che altro quelle non alla Roby, perché quelle con il termosifonino così, le lascio fare alla Roby. Ah beh, sì. Sì, perché sono la Roby la sede diversa. Però tipo qualcuna che dobbiamo fare, che non c'entra niente col termosifonino così, si può far affare a qualcun altro. Ma cosa è, Ricky? Non so quanto è libero in questo periodo. Perché Ricky è bravo. Il cazzo del giorno fa... Ricky è bravo a farlo, volendo. C'è un sacco di gente bravissima che disegna. Anche io, per dire. Cioè, io sono bravissimo a disegnare. Se volete, stasera vi faccio un'emote. La faccio io. Eh? Non ne abbiamo solo tre, non ne abbiamo... Oddio, per il follow la puoi fare, volendo. In realtà ce ne abbiamo... Sei tre. Otto ce ne abbiamo. Perché non raddoppiavano anche quelle animate. Sì, ci sono cinque animate nuove, effettivamente. Termovisione è mia. Non so se l'hanno già fatto, però. Non lo so se l'hanno già fatto, però vabbè. Una volta che ci sei, le prepari... Comunque quali dei follow... Sì, anche. E lì ne abbiamo riposti. Allora. Dopodutto questo tipo. Grazie ad Inolfi. Allora, abbiamo follower 5 slot. Base 3 slot. Abbiamo volendo anche 3 slot per la tier 2, 3 slot per la tier 3. Sì, che non... Non è prega niente. E le animate... No, le animate per ora sono cinque. Non le devono ancora mettere. Volendo ci sono anche posti per i bits. Ma in realtà non ci abbiamo... Cioè, l'avevamo pensate... Grazie, smoca! L'avevamo pensicchiate... Sì, però non mi ricordo. Cioè, c'era quella per i follow del... Del lurk. C'era. Del termolurk. Grazie, scimpsi! Grazie, bendy che resubbate, eh! Poi c'era il Sumimasen. Se volete ci sono le Fresh Adventure con Kinder Pinguin che quando premi frecciaggiù Fresca Paglia fa proprio il Sumimasen. Non è che devo andare a prendere una roba a casaccio di uno che si piega. Per carità. Il Pinguin inerente col... No, non c'entra, non c'entra molto. E... Ne avevamo pensata qualcuna, ma già me le so scordate. Eh, mamma, mentre giocavo faceva ridere, ho capito. Ci sono un sacco di cose che mi fanno ridere nella mia vita, ma non è che sono tutte inerenti a quello che faccio... quello che facciamo qua. Sono malata, sto sniffando il Vaporub. Sei drogato, non sei malata, è ben diverso, eh! Questa è una dipendenza, non si scherza, affatto! Tra l'altro... abbiamo finito entrambi all'awake. Sì, ho proprio platinato, è abbastanza easy la platina. C'era un bug... Un po' platinato, ma... C'era, tra virgolette, un bug che in realtà non è vero, perché poi in realtà... Grazie, Flavio, un ne! Grazie, Flavio. Perché c'è da prendere tutti gli... gli amuleti, no, ad aggiungere. Sì. E io seguendo la guida l'ho presi tutti, non mi dà il trofeo. Alla fine, perché la guida, tutte le guide non danno l'ultimo che devi accarezzare un cane. Casissimo. E ti dà un amuleto, oppure quello lì. Dove è il cane da accarezzare? Prima della fine del gioco, a Watery, sul palco c'è un cane. Ah, ok. L'altro... Il gioco è stupendo. L'altro c'è anche... che l'ho scoperto alla fine, ma lo sapevo. È il pettare tutte le teste d'alce. Ma come lo fa? No, non esiste come trofeo. Non c'è un trofeo, però... Ma infatti l'ho fatto sempre, ma non mi ha dato nulla. Tu nel luogo mentale di Saga, se vai vicino all'alce che c'è nel luogo mentale, ti dice, ne mancano tot. Ah, io l'ho pettato. Cioè, me l'ha fatto pettare. A me ne mancavano tre. Me ne mancavano. Ma te lo faceva fare o no? Quello lì nella mente. Non mi ricordo se me lo faceva fare... Perché a me l'ha fatto fare, quindi magari l'ho fatta tutti. Ne mancano tot. Allora magari l'ho fatta tutti. Non ho letto nessuna cosa di mancato, ma l'ho fatta tutti. Cazzi, diavolo. Veramente bello. A me è piaciuto molto. È bello, molto. Ha delle... delle cose lasciate in sospeso, di trama. Mi è dispiaciuto un po' non farlo in live, sinceramente. Perché sono delle cose... Cioè, anche solo... Tra virgolette il boss finale, come... Cioè, da quella parte lì del boss finale... Sì, il boss peccato siano un po'... In realtà il primo fa schifo al cazzo. Gli altri sono un po' bruttini perché è un pochino... Cioè, non è control come gameplay, quindi è un pochino fastidioso. Da proguita, da con le musiche che ci sono e tutto. E quel boss, la cosa del boss finale. Sì, sì, no. Esteticamente, artisticamente è una roba incredibile. Peccato un po' per il gioco... Cioè, a pe, dalla mano, che è un pochino fastidioso a tratti delle volte. Perché è un pochino... Fatto un po' così. Però... Tanta roba, no? Dicevo... Lasciano in sospeso, tipo, forse due o tre robette. Che non so se verranno riprese in un DLC. Eh, ho paura di quelli. E che in un DLC sarebbe un mezzo peccato perché... Ah, control... Se volete giocare alla Wii 2, giocate anche control perché sono un bel po' di... Sì, ci sono dei riferimenti bestiali. Tra l'altro, non so se hai visto ieri nel gruppo cosa ho scoperto... E del tizio. Sì, dell'attore che ha fatto Casper Darling in Control. Che si vede anche qui, volendo, un paio di easter egg. E praticamente l'attore che ha fatto Robin Hood, un uomo in calzamaglia, che faceva... Will, Rossell, Laohara. Quello che si mette i coltelli nelle braghette e gli cadono giù le braghette. E trafano le cose, le frecce. Grazie, Pasquale. Io l'ho platinato di tutte e due. Se è control o se è rinunito. E tra l'altro l'ho ristallato control. Non so se lo giocherò, ma... No, meglio no. Perché l'ho platinato, basta. Aspetto il 2. Control 2, se ci saranno. Proprio bello. Comunque recuperatevi, sacco... Cioè, se vi piace questo tipo di... Grazie, Adam. Vi deve piacere il genere. Di genere, sì. Cioè, non è tanto... Non il genere tipo... Allora, control è più giocato, eh. Cioè, c'è molto più gameplay in control. Alla way, gameplay è veramente poco. Sì, diciamo che, effettivamente, ne dicevo anche stamattina con Gatto, che io mi sono messo a esplorare un pochino quella... Esplorato tu, tu. Però, effettivamente, per la trama... Allora, per la trama sì, perché trovi in giro anche i fogli, per carità. Non li ho mai letti. Però... E minchia, ti perdi... Cioè, no, allora... Molti sono, in realtà... Trovi quello che succede, semplicemente. Però, delle volte, trovi anche cose carine che appartiene. Ovviamente, tanti da leggere. Però... Sì, è... Per apprezzarlo al meglio come ritmo e tutto, forse conviene quasi tirare dritto. È come dicono... Come vengono valutati tanti, Alla way, che è più effettivamente un gioco alla Sony. Che è più... Sì, più o meno. Che cinema. Mi piacerebbe a Sony. Cioè, è più film che gioco. Però... Cioè, merita comunque anche il gioco. Neanche della stofanza, sta narrativa così figa. No, assolutamente. Però no, intendo... Però sì. C'è più cutscene che... Che gameplay, diciamo. Che poi non è vero, perché se già ti esplorando... Sì, sì, no, ce n'è. Quello è che non ne vale troppo la pena, diciamo. No, perché non avendo neanche mezzi di trasporto... In realtà sono molto divertenti... Cioè, sono molto divertenti gli enigmi, gli indovinelli che trovi in giro. Sì, per cassa, ad esempio. Però il reward, diciamo che è più l'indovinello stesso che quello che ti danno. Perché... C'è solo un paio di volte che ho avuto difficoltà con gli oggetti. Poi vabbè... E li ho riavuti, però... Perché effettivamente le munizioni sono... Abbastanza poche. Eh, dipende, anche lì, sì. Ho avuto problemi solo nel finale, però quando ti servono te le danno, quindi... Sì, vabbè sì, quando c'è il boss te lo danno. Sì, è assolutamente story-driven, non ci sono scelte da fare né niente, perché la storia quella è e quella vogliono raccontarti, quindi... E sono contento che non ci siano finali alternativi né niente, perché... E non... I giochi così non devono averne, perché poi vai a perdere il canone. Però molto bene. Sono tipo Spider-Man's. Poi vediamo. Fazzioso termoraculo, ma più o meno quanto è grande, Alonso? Come hai fatto a rigallivolarti? Sei ribaltato Alonso? No, anzi, in realtà è arrivato terzo. Mi sarebbe bene alla Wake 2? 3060 Ti è medio, però... No, medio il cazzo. No, neanche medio. No, livello PlayStation 5, Xbox, però. Che va bene, eh? Cazze, cazzo aprillo. Cioè io con la 3070 in realtà... Adesso la 3060 Ti forse in realtà no, ci giochi anche bene, dai. Se togli il ray tracing ci giochi bene. Io ho giocato su PlayStation e non... Non ho mai avuto problemi, in senso... PlayStation live a 60 frame erano fissi. Eh, io l'ho voluto giocare un pochino più esoso, perché è proprio bello graficamente. E attivando anche il ray tracing e il path tracing, ogni tanto c'era dei bei cali. No, per se insomma... Se toglievo il ray tracing potevo mettere tutto ad alto, io sinceramente. Comunque su play si difende bene. C'era bella grafica anche lì. Cazzo cinese. Sì, sì, ma se lo giocate a basso, comunque è bellissimo, quindi... Sì, che il play è medio-basso, quindi... Sì, sì. Cazzo, Bored! Perché no capo è caduto. Diciamo che il medio-basso su PlayStation è comunque equivalente all'alto ultra di tutti gli altri giochi usciti finora. Come estetica e tutto, sai? È sicuramente bello. È così. Ma che gli effetti della pioggia e tutto... Cioè, c'è da dire che non ho quasi mai avuto problemi di stuttering. Un po' alla fine, ma... Non so perché... Forse si... Tra virgolette surriscaldava il gioco. Cioè, andavi in overlo del gioco perché... Poi riavviandolo mi ripartiva bene. E mi è capitato anche di... Tipo, cioè, ci sono dei pezzi dove te apri una porta, c'è un piccolo corridoio, apri un'altra porta, ed è come un teletrasporto che ti porta da un'altra parte, no? E si vede che non mi caricava bene qualcosa e cadevo giù nella mappa. Ostia. E dovevo ricaricare la partita, però, perché anche morendo e riniziando... No, per tutte cose su PlayStation ho mai avuto problemi. Sì, mi è capitato due volte quella roba lì. Per il resto non mi è capitato... Non ho mai, credo, avuto nessun bug. No, per il resto neanche io. A parte quello del trofeo che in realtà poi effettivamente non era un bug, perché... Effettivamente non lo era. Quindi è in posto. Eh, Gibo, sì. Sì, anche Viking, eh. Era proprio un problema della versione PC. Eh, può darsi se c'è avuto questo problema qui, ma lo vediamo. Sì, candidato a Goti, sì. Sì, assolutamente. Che vincerà, probabilmente no, ma candidato sì, assolutamente. Grazie, Dani. Sette volte sette volte sette. Questa è una bugia. Esco una breve, eh. Penso che la fine settimana prossima devono uscire. Denomination? No. Ah, entro a metà novembre, ha detto. Quindi, fine settimana prossima e siamo già al 12. Beh, le chiuderanno, non è che escono. No, escono subito, già le dicono chi sono i nominati. Ah, sì? Eh, sì, anche perché quella gente deve avere un mese di tempo per votare. Vabbè, sì, è vero. Perché dicevano, ci sono due tranche in realtà per votare. Cioè, entro metà, quindi la prima tranche, tutte le testate giornalistiche devono dare le proprie nomination. Che sarà questa, probabilmente. Per ogni, sì. E dopo, dopo quelle nomination, devono votare i loro vincitori. Probabilmente entro metà mese decidono poi che sono candidato. Credo votare i vincitori, però si farà, cioè, appunto, a ridosso della... Probabilmente, sì. Della cosa, non saprei. Però, quest'anno, ragazzi, non vedo l'ora di... Credo sia un... Dieci anni che non succedeva l'anno. Da molte, più di... Da quindici anni, almeno, probabilmente. Perché tutti assieme, così, accorpare tutti questi giochi importanti. Cioè, un anno del genere, veramente da quindici anni, non c'era. In solito, i giochi top erano due, tre all'anno, al massimo. Quest'anno sono sei, cinque, sei potenziali. Ma anche, proprio come i nomi di peso, anche lo stesso... Game Awards, per dire. Anche lo stesso Awards Legacy. Certo, no. Anche se non vincerà mai. Comunque è un nome di peso, cioè... Ed è, comunque, quest'anno, anche lui. Ed è un nome di peso. Non so se sarà nominato, sinceramente. No, no, infatti, non sarà nominato. Ma comunque, se fosse stato un altro anno, poteva addirittura candidarsi per vincere. Però anche quest'anno c'è molto meglio. Grazie a Dio. Però, comunque, è un nome di peso che è uscito anche lui quest'anno. Quest'anno, a livello di ottimizzazione dei nuovi giochi, è stato uno dei peggiori, sono il peggiore degli ultimi anni. Quello credo di sì. L'ottimizzazione sì, probabilmente sì. Probabilmente quest'anno è stato incredibile. Mi sa che l'anno prossimo si ritornerà a scena. Mi sa che l'anno prossimo non è che esce così tanto. PlayStation non ha annunciato niente. C'è ancora un annunci. Xbox, anche lì, c'ha cinque, sei giochi, ma non escono mai. Esatto, Dio, c'è l'alto e basso. C'è anche Gollum, poi, però... Gollum, ci sono ogni anno i Gollum. Eh, però così... Sempre, comunque, come nome di peso. Sì, perché è di peso. Non saprei, io, se l'anno prossimo. Eh, l'anno prossimo, io, altrimenti, non mi viene in mente nessun gioco. Quest'anno non sapevi che uscisse... Cioè, di... Vabbè, ma non è un grande gioco quello. Eh, però se non ha altri candidati, va a finire che vince lui. Non penso, no. Cioè, voglio dire, Baldur's Gate 3, all'inizio dell'anno, non si sapeva neanche dove sussire. Sì, ok. Però, effettivamente, a me l'anno prossimo non mi viene in mente... A parte Yakuza 8, non mi viene in mente... Cioè, Alan Wake 2, nessuno sapeva forse sta Madonna all'inizio dell'anno, eh. Spiderman all'inizio dell'anno si sapeva, all'uscita. Sì, sì, sì. Si sapeva forse l'anno, non... Sì, sì, si sapeva 2023. Si pensava al rinvio, ma... O esce già Wolverine, ma mi sembra un po' troppo presto. Non lo so. Penso che lo passeranno almeno due anni. Però non mi viene in mente... Cioè, veramente, l'unico... Potrebbe letteralmente vincere Silksong. Veramente. Se esce l'anno prossimo. Beh, Game Awards viene annunciato Silksong, ma lo può anche essere. Cioè, la data ufficiale potrebbe anche essere, sinceramente. C'è il remake di Metal Gear Solid 3, che però, sinceramente, non so quanto poi sarà. Scusa, fammi vedere come che è IGN Upcoming Gaming. Diamo se c'è già un 2024. Il 2024 c'è quello mese per mese, però. Sì, vediamo. E sono pochi. Allora, in gennaio c'è la Dragon. E va bene. Allora, in the Dark. Ah, già, quello. Vabbè, ma in the Dark, cioè, non so neanche se è considerato un AAA o... Era carino, è uscita la demo lì con... Ah, Tekken 8. Ok. Ok. Minchia tutto gennaio, c'è questo. A Palward? Minchia vero che Palward. Minchia GTA 6 l'anno prossimo. No. Se non lo annuncerò quest'anno, non credo che sarà l'anno prossimo. Secondo me sì. Poi a febbraio... Minchia, febbraio, pieno di giochi. Ah, sì, Suicide Squad, è vero. Vabbè. E il Tivers 2. Mario vs Donkey Kong. Abbraio Remake. Ah, fa le fatte di sette Rebirth. Ah, già, vabbè, sì. Eh. Perché effettivamente anche quello ha un bel po' di peso, eh. No, effettivamente qualche gioco c'è. Silent Hill o Silent Hill nuovo? Sì, dovrebbe uscire qualche cosina. Qualche gioco c'è. Però non sono giochi che mi fanno dire cazzo, questo sarà un anno... No, non sarà mai come quest'anno, cioè, è impossibile che sia come quest'anno. E quest'anno Starfield, che per quanto non mi è piaciuto, è uscito Starfield. È uscito Diablo, è uscito Zelda. Per quanto non mi sia piaciuto, è uscito. È uscito Diablo 4, che ce lo scordiamo sempre, ma è Diablo 4. Baldur's Gate, Al'Awake, Spider-Man... Ci sono tutti i giochi che poi sono ritornati dopo decenni, perché Diablo 4, cos'è, 2012, mi pare. Eh, sì, sono al 2010. Al'Awake è del 2010. Baldur's Gate, vabbè, però è un'altra roba quella. Ah, Stalker? Non so se uscirà mai Stalker. Però Stalker, anche quello... Eh, Stalker, se esce bene, è un gioco di peso, eh, Stalker. Non lo so. Eh, poi bisogna vedere se esce più o altro. C'è sempre quello buono. E comunque lo vedo comunque un pochino di nicchia. Poi non c'è... Beh, è Xbox adesso, è Microsoft. Sì, ma... Poi aprile niente... Beyond Good and Evil... Maggio, non c'è non c'è niente. Non penso neanche, guarda. Earth Defense Force 6, ecco chi vince, vai. Non penso. Armored Core, non so neanche dove possa essere arrivato. Luigi's Mansion 2? È molto carino, è un gioco piccolo. Luigi's Mansion 2, il remake. Ah, boh, qui c'è il secondo quarto del 2024. Ah, sì, H2. Ah, Dragon's Dogma 2. Eh, lì non si sa. Il Monster Hunter nuovo dovrà uscire. Eh, ma lì non ci sa, è un po'... Sì, è generico, però non si sa nulla. Sì, poi dopo non ci sono più annunci. C'è... Cotter alla fine l'ha cancellato, mi pare che l'avevano cancellato. Cotter non è l'ufficiale, ma è molto probabile. Coso Star Wars, quello di Ubisoft, era rinviato... Era stato rinviato entro marzo del 2025, però potrebbe tranquillamente uscire fino all'anno prossimo. Infatti quello può essere... Il CDL The Ring... Vabbè, quello non può essere candidato. Eh, oggi è uscita la notizia che dei rumor dicono che sarà lungo come metagioco, quindi... Sì, però non credo che un DLC possa vincere un Gothic, cioè non avrebbe molto... No, non ha troppo sé. Beh, non credo. Comunque la base è il gioco... È il gioco base che ha già vinto. No, non mi ricordo se sono uscito... Se c'è mai stata come roba. Ma per l'altro il gioco base l'ha già vinto, basta. Cioè, comunque è sempre riferito a quello. Prince of Persia nel 2020. Prince of Persia, ma quello... Metroidvania. Ah, quello che dove... Quello due di... Sempre. Grazie, benzinire. Cioè, di Sonner 3, che mi hanno dimenticato. Di Sonner 3. Qualche gioco esce, comunque. Ma è puntato lì per sbaglio, credo. Il CDL's di Cyberpunk, ne vuoi? Perché fanno 3 remastre? Quando me l'hanno annunciato. Ah, dici, per quest'anno il CDL's di Cyberpunk? No, ma va, ma sicurati se... No, no. Allora, magari gli fanno vincere qualche Gotti... Qualche premio, forse, ma... Qualche premio, giusto anche per dire... Fargli vincere qualcosa anche al gioco base, che mi pare non avesse vinto praticamente nulla. Però... Non lo so. Il gioco di Quantic Dream, Yaku, uscirà tra 20 anni. Avevano detto già che si parlava di 2026, minimo. Quindi... Già si parlava di un bel po' in là. Quindi... Sarà migliore espansione se c'è. Dipende, anche lì. Cosa ci sono stati di espansione? Perché espansione non sono solo i DLC dei giochi single player. Tra l'altro... Ricordo le categorie, scusa. Stavo leggendo una notizia forte, l'età ha fatto il record assoluto. E c'è sempre la cosa a questi giorni. Sì, ma ha avuto... Ha totalizzato 45 milioni di giocatori. Il picco è stato di 5 milioni di utenti in contemporanea. Sì, tra l'altro sono... Cioè, anche... Se l'hai giocato adesso... Sì, è proprio la mappa base. Tanti fio. Era proprio quando registravamo i video con Ciccio. Sì, però fa proprio caccare. Era proprio vecchia, era vecchia. No, ma non è solo... Cioè, la mappa è basta anche e anche. Il fatto è che non ci sono munizioni, non ci sono cure in giro. E no, è proprio come era all'epoca. Sì, non c'è bisogno di farlo come era all'epoca. Fai World Warcraft Classic. Ma tanto, vabbè, tanto ogni settimana cambia. Eh, sì. Lasciamo stare World Warcraft. Domani riparliamo la rassegna. Lasciamo stare con il cazzo che hanno fatto questo World Warcraft. Comunque, cioè, le armi fanno proprio caccare. Cioè, io non capisco perché stanno andando avanti World Warcraft a fare il Classic. Non lo capisco. Ma ci gioca gente, si vede. Sì, ma non ha senso. Stanno rifacendo lo stesso gioco. Semplicemente ritardato di 10 anni. No, a parte che hanno detto che fanno dei cambiamenti delle classi. Hanno detto tipo il mago che curerà. Ma perché? No. Vabbè. Allora. Cagate, cagate. C'era le nominations. C'era Filippo Spencer, comunque, sul palco. Sì. Eh, vabbè, giustamente è loro adesso. Ma che sito del cacchio? Non ci voglio riguardare le categorie. Vabbè. Sì, lo fanno perché hanno giocato i tempi. Ma è vero. Non è vero. Il problema è che con Cataclysm, che deve uscire adesso con il Classic, è il punto base in cui adesso funziona World of Warcraft. Quindi praticamente non è più il gioco vecchio. È semplicemente il gioco attuale. Il cazzo è che si approccia oggi a un gioco come World of Warcraft Classic. No, chi vuole giocare a World of Warcraft va su quello. Esatto. Cioè, quello lì è per chi non... Per i vecchi, invece, che è diverso. Il problema è che non... Poi adesso io pensavo fosse l'ultima espansione, quella che annunciava. Invece hanno annunciato tre espansioni in una botta sola. C'è la prima volta che annunciano tre espansioni in una botta sola. F1 di Spiro 4, speriamo di nome. Concentriano questa settimana Formula 1, forse più settimana prossima, giro. Stasettimana abbiamo... Forse più settimana prossima. Perché questa settimana c'è anche il COD. Il 10 è COD, quindi venerdì. Poi c'è il 9... Il 9 esce Like a Dragon. Poi il 10. Il 9 è il 10. Però, appunto, tra For the King e tutto... Diciamo che finiamo tutti i The One. Cioè, questa settimana finiscono praticamente tutti i The One. Così, questa settimana prossima possiamo fare For the King e gli altri giochi. Momento scaletta, ragazzi. Beh, non c'è molto scaletta. Cioè, a parte i The One sarà sempre For the King. Io mi è rimasta una voglia di giocare a For the King e basta di prendermi questa scheruola. Beh, alla fine la scaletta, adesso, finché abbiamo sti giochi, sarà abbastanza fissa. Non prendiamo la cattura del coso, vabbè. Allora, dicevamo... Sì. Ah, vedi, posso aprire tutto il schermo, il disegno. Non è vero, l'ho preso, vabbè, non importa. Dicevamo... Che mi è rimasta una voglia bestiale di giocare a For the King. Allora, domani... E... Porca miseria. Il fatto è che non abbiamo notizie per f***e. Vabbè. Allora, domani... Mattina a Fortnite, come ho detto. Io farei Fortnite una volta a settimana, adesso alle mattine, lo facciamo per vedere appunto le mappe... Mi sa che ogni settimana cambiano. Mi sa che ogni settimana cambiano la mappa. Martedì. Grazie, Gunner. Merdole dì. Giovedì. Giovedì. Eh, dì, non dì, sì. Venerdì. Vabbè, lo facciamo in live per i sub. No, questa è adesso la prossima è la... è la... Tremovest. Sì. Nomi, cose, città. Nomi, cose, città. Il gioco, quello... C'è un gioco... Beh, c'è anche online, c'è... Parti con una lettera e devi scrivere tutte le categorie, una parola con quella lettera. Ciro, perché poi martedì inizia una serie, non ha senso iniziare domani e poi c'entrò per la martedì per poi ricominciare a vendere il credito. Eh, Ciro, eh sì, non ci sei mai tu, cazzo. Eh, mai, mai, non ci sei, mai! No. Ci sei? A parte che con il sub... Cioè, no, se puoi mettere il limite di persone che entrano, sì, si può anche fare, non è così. Eh, ma no, martedì, giovedì, sono proprio due giorni e mezzo alla settimana, non ha proprio senso. Martedì, giovedì, due giorni ci sei. Proprio i giorni dove dobbiamo fare tutt'altro. Eh. Comunque, allora, diametro nel video. E rimandiamo con la sera FIFA, poi vediamo se si fa ok. E la sera... FIFA. Poi, il giorno dopo, la sera... For the King. E Ranch Simulator. Ah, quello quindi vogliamo provare. Sì, iniziamo a quello, poi se lo fa a cagare almeno non sostituiamo. Ecco, perché stamattina ne parla... Finita la moca, ha detto... E poi dobbiamo iniziare una grande serie, che non mi ricordavo, quindi... Ranch Sim, che l'avevamo già provato una volta, ma... Metti già, metti barra... No, vabbè, martedì rimandiamo con il Ranch Sim, che è una live, lo facciamo. Mercoledì, giovedì, venerdì farei Ranch Simulator slash 7day2die, cioè... No. Vabbè, dici se... E uno o l'altro, nel senso... Cioè, se uno fa cagare... Non volevo fare Starbound, scusami. No, Starbound dopo... O volevi già subito Starbound e poi fare... Boh... Ma farei prima 7day2die e poi Starbound. Non saprei. Che bell'è, che ti piacciono? Tutto è diverso. Vabbè, per ora lascia sempre Ranch Simulator, poi vediamo. Tanto male se si stituisce. Allora... No, forza, mi sa che... Aspettiamo il super aggiornamento che diceva Pika e... Vediamo. Se poi dopo quell'aggiornamento la fa cagare... Ranch Sim... Dicevo, Like a Dragon... Quando esce chat? È giovedì. Giovedì, dicevo. Giovedì, quindi giovedì... Like a Dragon. Ma la vuoi fare? Eh, Rezor, certo. Eh, non lo so. Esce sul Game Pass. Oh, io... Sì, sì, sul Game Pass, quindi esce di notte. Che no, Bianco. Sicuro che esce sul Game Pass? Sì, sì. Tutti escono sul Game Pass, eh. I Like a Dragon. Quindi esce alle due o le tre di notte, eh, di conseguenza. E quindi io fai giovedì Martino, in caso. Sì, o io, Marco. Grazie, Fred. Grazie mille, Fred. Like... Ah. Penis. Gaiden. Il COD invece lo fai venerdì sera, direi. Venerdì sera COD. Non lo so, in realtà... Beh, sì, lo faccio comunque di venerdì sera. E ti che magari banco io, perché forse non ci sono qui. No, ma comunque non lo faccio due ore la mattina COD. No, perché se sono in multi... Che ragazzi, che schifo che fa la campagna di COD. Io non so... Cioè, lo so perché l'hanno fatta così. Perché hanno detto... In culo. Ci abbiamo più voglia di starci dietro a sta merda che non si gioca a nessuno. O facciamo una schifezza immonda. Una brutalità merdaccica. E via. Ma non è il problema che è cortissima. Quale cazzi COD è stato lunga la campagna? Non è il problema che è corta. È che è immondizia pura. Cioè, praticamente le missioni di COD adesso sono... Ti droppa... Cioè, Warzone ti droppa nella mappa un open map. Che è una porzione di mappa di Warzone. O quello che sarà la mappa di Warzone. Per dire, tipo, ho fatto la missione. Devi andare... Ci sono tre elicotteri segnati nella mappa. Devi andare a farli esplodere. E poi entrare dentro un palazzo. E uccidere tutti. E scappare via con la corda dall'elicottero. E puoi rushare tutta questa cosa qui. Perché è un open map. E in giro trovi il loot, le casse, come su Warzone. Le piastre da metterti addosso. E così così. Ma con i bot. Che sono i nemici. Terrificante. Probabilmente anche la beta di Yakuza 8. Che è dentro Gaiden. Ma non so quanto serve. Scrivi COD. Venerdì mattina. Renzo, se volete, di nuovo. COD. M-V-3. Proviamo il multiplayer. Che è quello lì. Invece sembra essere bello. Mentre qui Ranch. Poi metterei Giovedì for the King. Giovedì sì, assolutamente. E poi, non so, mercoledì se rifare ancora for the King. O qualcos'altro. Poi vediamo. Mercoledì... Mettiamo incognita. Poi... Fare terzo for the King. Non so Marco cosa farà nel Marchedì. Tu non so se farei Giovedì King. Io venerdì notte. Non ho idea. Non lo so cosa farò. Però lasciamo così poi il video. Venerdì notte. Non ho programmi. Anche qui. Non si sa Marco. Questo mi è venuto incredibilmente bene, vero Ari? Questi fan cacare. Questo è venuto di un dritto bestiale. Snowrunner col volante. Non credo sia... Così... Ma come fa come Gui di tutte le altre cose. Mettici The Invincible. Non lo giocherò The Invincible tra l'altro mai. Eh sì, ma è così. Ma la rivoluzione del trio ci sarà, no. Non abbiamo messo niente in programma, quindi no. Se esce veramente Titanfall 3 con una campagna del centro shooting a modino, come sanno fare loro, mi sa che vince a mani basse. È grazie al cazzo. Eh, la campagna del 2 era molto figa. A confronto di quella di MW3 vince tutto, grazie al cazzo. È proprio terribile. È vero, avevamo rimandato Geostatic la settimana scorsa. Ah, bocce, ce lo vediamo. Geostastic. Sì, volendoci fare quelle, ma c'è anche... Mercoledì? Volendoci anche chi volesse migliotare, vabbè. Per non fare sempre For The King, cioè due volte ci sta. Così ce lo portiamo anche un po' qui là. Cioè, non finisce subito. Ah, Headbangers dobbiamo fare. Cos'è? È quello dei piccioni. Quello da battere Royal Rhythm and Game con i piccioni. Ostia. Quello lo dovremmo provare a fare. Tra l'altro ho anche... Anche Gatto quasi, se voleva affinare. No, è nel Game Pass. Ah, è nel Game Pass, quello. Sì. Sì, esatto, con Gatto ne dicevamo oggi. È quasi mercoledì. E ma Gatto, sai che martedì, mercoledì e giovedì non c'è mai? Eh, dipende se c'è qualcosa in ballo. E ne si sta facendo alla Wake? No, non sta facendo alla Wake. Non lo fa più? No, che adesso non lo faccio in live, perché in live... Se lo sta giocando per i cazzi suoi. Vabbè, in caso, se c'è quello, se no, facevo altro. Beh, intanto, un gioco si trova tranquillamente. Vediamo. Forse... Scaricatevelo in caso, Edbangers, che è sul Game Pass... Ah, giochiamo con tutti, ok. ...e pesa un giga e mezzo. Sì, però puoi invitare... Cioè, puoi invitare trenta persone... Ma deve essere raggiunti gli amici? Sì. Eh, purtroppo sì. Quelli che mi hanno aggiunto per cosa giocheranno a... Esatto. Quindi, se mi avete già aggiunto per forza, potrete giocare a quello. Vabbè, in caso aggiungetevi anche gli altri, però è un casino. È un segno. È un segno. È un segno. È un segno. Eh sì, giù. Sì, con Edbangers riempiamo una lobby. Può essere molto carino. È molto... Sì, ci sono i minigiocchi... E cose. Fall Guys. Però... Con dei minigiochi ritmici. Semplicemente. Ed è molto carino. La cosa è reciproca. Comunque, oggi è il 5 novembre, ragazzi. Vi rendete conto? Mancano... 20 giorni. 20 giorni è già finita la Game of the Week. Vabbè, circa. Non fare il pignolo di merda. Che paura, Moro, non dire. Di gay? Che paura di gay? Rompi palle. Tanto probabilmente Giro lo vedremo un secondo e poi basta. Come in tant'altro. C'è, cibo due. Molta gente, probabilmente la vedremo veramente 5 secondi, poi sparirà e non si vedrà mai più. Può essere. Però poi voglio vedere le vostre fotine. Poi facciamo una live. Dopo la Game of the Week, facciamo una live dove ci mandate i vostri momenti salienti del weekend Game of the Week. Beh, se vogliamo fare poi un giro alla fiera, a chi vuole. L'altra volta l'ho fatto con un po' di gente, sono andato in giro per la fiera a vederla. Perché è poco che si riusciva a vedere. Dopo tutta la parte cartoon, se bene o male si riesce a vedere. No, no, Delpy. Grazie, Delta. Grazie dei due mesi. Ben di turné. Che poi il 25 viene sui speciale adotto l'uovo. È quello lì, ma lo recupero poi quando tolto. No, Darkwood, l'ho già sentito. Darkwood, non è quello che ho giocato io. Scusa, non è quello con la visuale dall'alto. L'ho già giocato, l'ho fatto in live. Non era in isometrica, era proprio a volo d'uccello. Volo dall'alto, sì. Noi conosciamo l'alto bastardo di Vec. Eh sì. A me no, eh, Gibo. No, te non gli hai freccato. Si dimentica. Guarda che se non passa lo uccido. A parte che viene perma bannata. No, ora puzzano i piedi. Eh, dopo la Games Week voglio vedere... Voglio ben vedere se non vi puzzano i piedi. Mi fate odorare il tuo ultimo. Una fotocamera per fare le Polaroid alla Games Week. Io ce l'ho, effettivamente. Non l'ho mai più usata, ce l'ho qua. Lì. Si vede? Aspetta, fammi rimettere la schermata di Prima. No, sono riparte, adesso riparto con le sub. Maledizione, sta roba. L'ho qua sopra, sotto il simbolo di Thermos, ma non si vede. Dai, Moro, portala. Ma potrei anche portarla. Devo vedere se c'ho... E che i rullini, cioè lei... Ma la fatto di gruppo, evidentemente, non l'abbiamo mai fatta. L'ultimo quello che fa anche la Roby. Con la Polaroid. Il problema è che non... L'ho fatto di gruppo, o la fai proprio nel momento in cui c'è tutta la gente, però devi decidere un orario, oppure... Bisogna che metà la gente non c'è. Non uso il regalo, non è grazie, no. No, no, poi andiamo a Oreo, al serio? Forse riusciamo... Andiamo a vedere la passata... Allora, fammi sapere poi ci vuoi com'è, che io ci vado, ma probabilmente vado dopo il Natale, tanto dura fino a febbraio. Adesso per il Natalizzo sarà un casino. Però fammi sapere com'è. In ferro la foto di gruppo è complicato, ma infatti si faranno sette foto di gruppo, probabilmente. Mi ricordo di portare la tutina. No, io volevo fare quella cosa lì. Voi la volete, la tutina? Quella lì da cane. Perché le vuoi dare? La volevo, volevo fare qualcosina e poi darla a qualcuno. Le due che sono avanzate. Le due? Le due e tre. No, le due. No, una magari la tengo io. Sì, tanto io ho quella di... E appunto. Eh, però cosa vuoi fare? Eh, non lo so. È che appunto, cioè, fare qualcosa di disegno e... Cioè, solo qualcuno può invece fare estrazione. Beh, il terreno di Fortnite vince Joe Pasta Asciutta tutte e due, quindi mi giro. Non è... Fai come il bucchello da matrimonio. È a questo punto. Cambio con un barattolo di pesto. No, no. La diamo al settantatreesimo che viene a salutarci. Così. Sì, un numero a caso che estraiamo il numero la mattina, senza dirvelo, e poi quel numero lì, il tipo sessantatresimo che ci saluta, si becca al... Oppure diamo a tutti quelli che hanno a salutarci un numerino e facciamo l'estrazione. Devo stare lì a contare, sarebbe un casino. No, appunto, diamo a tutti un numerino e poi facciamo l'estrazione. Non ci bisogna dargli un numerino, basta fare l'estrazione. No, ecco. Ma come fai a capire che è quello? Ah, proprio da farlo lì alla fiera. Quello che arriva gli dai un numero, un altro numero, e poi alla fine gli dai... Fai l'estrazione, quelle che ci sono, e chi vince vince. Tipo, no, vendiamo tipo... A parte che io, poi mi sa, non ve ne ho parlato, credo. Beh, no, Thunder, non chiediamo tanto soldi. Che ho trovato un sito che faceva le spillette, le spillette, non di metallo, ma acriliche, però con la forma che vuoi tu e tutto, che non sarebbe male da fare. Se mi piacerebbe portare qualcosa di personalizzato da regalare a chi viene la game suite... Che è sempre tardi, adesso. No, in realtà non dovrebbe essere... Cioè, se lo faccio in... La settimana, dovrebbe essere tranqui. Allenarsi, Delt, non c'è molto certo. Perché stavo guardando i portachiavi, solo che i portachiavi in acrilico fan cacare, cioè c'ho paura che si sfondano, la spilletta in acrilico ci sta. Cioè, è carina. E che non volevo fare neanche la spilletta... Ci sei, Dark Mark? Che è da un po' che non ti vediamo. Uno degli storici, Dark Mark. Mentre sullo zaino, sì. Alla primissima di New York c'eri tu, Dark Mark. E che mi servirebbe... A parte che servirebbe qualcuno che me la disegna. Cioè, non vorrei fare la spilletta... Certo che ci sono ottimo, Dark Mark. ...delle mot e bon così, è finita. No, cinese. Porta lì sotto vuoto. Fa lì cucina a casa. Ok. Non le vendo, Gibo. Se le facciamo, ne regalo una a tutte le persone che vengono. Sì, esatto. Qualcosa che rappresenta... Ma neanche proprio la... Sì, beh, che rappresenta il fatto che siete stati lì alla Games Week o roba del genere. Mi piacerebbe fare qualcosa. Anche gli sticker, per dire che la spilletta è più bellina dello sticker. Cioè, dovrai spendere mezzo migliaio di euro quel giorno, non ti basta. E vedi, Gibo, se vuoi me le paghi tu le spilletta. Cioè, non ho capito. Cioè, devi spendere un putteraglio di soldi. E che non so ne... Quanti sarete? Quanti stavano? Non lo sai. Cioè, o la fai... Perché un centinaio sono più di un centinaio. No, sono sicuramente più di cento. Cioè, se è come l'altra volta, solo per il Meet & Greet erano probabilmente almeno duecento. Eh, infatti io avevo idea di duecento, io. Eh, ma solo nel Meet & Greet, però è che poi c'erano anche altre prime. Beh, è chiaro che poi quando so fino... Non è che ne faccio due mila e poi... Ovvio. Volevo fare un duecento, duecento euro di spillette, so. Eh, però, dai, sono carine. Eh, fai un... Sì, duecento. Cioè, duecento, duecento, comunque. Duecento... Allora, cento se le vuoi rendere un po' esclusive, i primi cento, duecento già per coprire un po'. Più di cento. Eh, sì. Trecento, per esempio, è il limite massimo. Ce ne saranno. E sono solo la domenica. E domenica non c'è. E' proprio l'unico giorno in cui sicuramente non ci saremo, perché c'è l'ipotesi che magari io e Marco andiamo anche venerdì, ma la domenica sicuro no. No, non ci sarà nessuno spazio nostro. Non potresti dare la spilletta solo a chi dice la parola d'ordine, che dice il live il giorno prima, così giro, visto che non guarda la live, non la saprà. No, comunque, per l'eventuale, tra virgolette, raduno solito, direi. State attenti, soprattutto la settimana prima della Games Week, anche sui social, perché diremo il luogo. Quando uscirà la mappa, sapremo più o meno dove andare. Probabilmente sarà verso una delle uscite esterne, come al solito. Ime, ti va di disegnarmi un ognomo delle feci? Solo la faccia, in realtà, senza alcuna cosa. Un ognomo delle feci molto chad, poggerone, o comunque con una faccia stupida qualcosa. E' carino, perché non c'è questo. Non credo, non lo so. Perché anche nello scorso poi non doveva venire, poi è venuto. Non lo so. No, non c'è. Proprio è sicuro, perché nello scorso, ad esempio, aveva detto che non era sicuro, però poi è venuto. A meno che non gli offrono qualcosa all'ultimo, ma non... In un certo senso lo capisco anche. Più che altro è una mazzata anche per lui. Anche per Moro, in realtà, per me e Mark è già un po' meno. Se mi vede di questo, che lavoro diverso da qui. Lo posso capire, lo posso capire. Prima mia Games Week, dai, Cines. Quindi in ogni caso mi perderò. Vabbè, c'è la mappa. In realtà è ancora più grande dell'anno scorso. Teoricamente è divisa in due padiglioni. Una Games Week... In realtà sono quattro i padiglioni. Dovrebbero essere due Games Week e due Cartoon Mix, quindi vedremo più o meno già... Ma metti caso che fai tu la spilletta, no? C'è il modo poi di fartela arrivare da qualcuno, porca miseria. Ma in me non c'è. E non c'è la stronzona. Non riesce. Lo convinto o ci vuole? Io lo vorrei far arrivare... Praticamente gli vorrei far arrivare un sacco di roba. Vabbè, ma la spilletta gliela puoi spedire via posto. Sì, è verissimo, è verissimo. Non la spedizione... È verissimo. Non credo tu la possa passare a prendere, sì, non... Probabilmente c'è anche una barca. Cioè, sì, sì. Se hai una barca, ok. Sardo termoraduno. Però sì, io voglio fare le spillette. Che sono meglio degli adesivi. Perché non voglio... Perché c'ho le spillette e quelle tonde de merda, però... Tonde de merda quelle. Ce le avevamo fatte una volta, quelle tonde con dietro proprio la spilletta tipo da balia. Però mi sfranno cacare. Ma mi prendi sempre in giro per le spillette? Allora, chi ti ha mai preso in giro per le spillette? Scusa. L'ho già anche fatta, rapido, una spilletta. C'ho lo zainetto pieno di spillette io. Ma noi anche una nostra ce l'avevamo. Quello era un dissing alla cichipe, però sì. In realtà avevamo fatto gli adesivi anche noi, eh. Sì, anche gli adesivi. Però, cioè, metti un adesivo e una spilletta. Cioè, la spilletta è molto più bella. Cioè, a parte che probabilmente... Già che faccio le spillette, faccio anche qualche adesivo, costano neanche un cazzo. Se ne voglio una anch'io, però... Se mi rientra nell'ordine. Vabbè, ce ne faccio 200, ce ne... Eh, ma per il 200 già non basta. 20 ce ne perrendiamo noi. Noi. Tutte a UmaUma. I primi 180 che arrivano, bene. Esatto. Gli altri... Singular. O la pagano, o la vengono. Gli altri. Le toppe applicabili. E le toppe sarebbero... A parte che... Cioè, chi cazzo applica le toppe? Però sarebbero già più carine. Con gli adesivi, se vuoi, potrei riuscire a farne un po' gratuitamente. Basta che mi dici il PNG mi autorizza a farlo. Però lo voglio... Olo... Con un'olografia particolare. Ma perché c'hai qualcuno che li fa? Ma sarebbe carino farli... Vabbè, adesso dopo sono lì a fare troppo lesoso. No, vabbè, facciamo le spillette quest'anno. Poi magari un anno prossimo continuiamo con altre cose. C'ho la serigrafia di famiglia. Sì? Ah, se vuoi... Gli faccio fare due... Cioè, qualche adesivetto così... Se non ti costa troppo, perché... Ora io li faccio con lo sputo. Irene, smettila di scrivere in questa chat. A questo punto facciamo le carte del Thermoverse. Poi dopo ci dicono... Che copiamo. Un po' più complicato. L'ho fatto una toppa, in effetti... E' così che va la vita. Mi ha dato sul gruppo la vecchia spilletta. Ma anche io da qualche parte se la dovrei avere la vecchia spilletta. Era il simbolo vecchissimo di termosifoni. Su un ragazzi spilletta bianca. Cioè, non era... L'avevano fatto perché avevano fatto anche... No, lì avevano fatto solo quello. Forse ci avevano stampato qualche maglietta anche nel mentre. Solo per noi. Per i tempi era tanta roba però. Ma perché i tempi, sì, si faceva di tutto. 60 euro, 226 euro, non è tantino. Perché sono olografici. Poi sono 5 per 5, sono belli... Sì, sono normali. E che sono olografici. Cosa vorresti? Moro non mi dovrebbe costare nulla se mio padre non mi odia. È difficile quello, eh. Eh, allora mi sa che già non... E' un figlio del genere. E de genere. Cioè, incredibile. Sai, dopo... Ti scrivo qualcosa. Vediamo. Lavoro è ritirato. Però voglio che alla Games Week mi portate... Tanti soldi. Grazie Fabio. Grazie Taichi. Fatta? Non fate mai una roba del genere che le donazioni IRL sono imbarazzantissime, ragazzi. Non lo voglio il pezzo di lardo, Irene, che mi fa un po' senso. Portalo al Vietter. Il problema è sempre portarli poi in giro. Quelli normali, taglio completo, stesse dimensioni, viene in 55. Quindi l'olografia è 5 euro in più, in realtà. Effettivamente non è tanto. Magari in qualche altro sito costa di meno. Questo è un po' tantino. 200... Beh, sono 200, effettivamente. Sì, quindi sono 25 tesi l'uno, però... Non è poco. Vabbè, non è che li fai... Non adesivo. No, però mi ricordo... Cioè, adesivi personalizzati non è all'ingrosso, quindi... Cioè, può anche starci, forse. Chissà se avete ancora le mie letterine di 5 anni fa. No, no. Probabile. Io le lettere e tutte quelle che mi sono guardate a casa ce le ho ancora tutte lì. No, anch'io ce le ho tutte. No, io sono guardate a casa. Quelle di giro non credo. Eh, non mi ricordo. Non lo so, se ce le ho... Cioè, se ci sono delle letterine ce le ho tutte, effettivamente. Ma quanti paccotti ti porto? Uno, due. Due paccotti. Se avanti direte in quale locazione della genesis si troverete appassionatamente... Eh, sì, però non sappiamo neanche se manco la mappa. A parte che anche con la mappa non è che possiamo sapere dove ci sarà un buco, perché se non c'è nessuno stand e niente probabilmente staremo fuori da qualche parte. Anche perché non puoi creare un blocco. Esatto. Cioè, o lo stai fuori o niente, perché sennò ti dicono di sbammare. No, ma che cazzo porti i pasticciotti leccesi. Grazie, Beppe. Grazie mille, Beppe. Cioè, non portate... Come sempre, non portate robe ingombranti, robe del genere, perché... Dove cazzo ve le mettiamo? Nel culo? Cioè, non è che possiamo andare in giro con i bustoni alla fine. È un casino. Non c'è quest'anno, non c'è in teoria, cioè non c'è nulla del genere, quindi non... Quindi lo facciamo come la seconda parte dell'anno scorso. No, perciò, diabolo. Il Veneto che minchia morto. La tua presenza, cinese, non ti abbiamo mai visto. Già, abbastanza. Sì, ma perché dal Veneto... Dove portare... Il maltempo. Grazie, Blaviken. Grazie, grazie, Blaviken. E sì, Blaviken. Ma che storia, come mai? E l'aveva detto Dario, che era lui che aveva organizzato l'anno scorso il Coso Padiglione Evox. Ha detto, sto cazzo, perché un anno lo faccio... Cioè, l'anno scorso l'aveva fatto tutto di tasca sua. Rifarlo un altro... Cioè, come primo anno ci sta. Il secondo anno, in teoria, la fiera, visto che gli hai portato gente, gli hai portato... Ci mette anche del suo. Gli hanno detto, no, no, guarda, non ci interessa se ci dobbiamo mettere del nostro. Quindi andassero a cacare. Sì, ha praticamente fatto tutto di tasca sua, dai. Sì, quindi non l'ha fatto. Quindi lo facciamo noi di tasca nostra. Probabilmente almeno... Azzardo, almeno 10-20.000 biglietti l'avevano venduti solo perché aveva fatto il distrito. 10.000-20.000, gli ezzer. E su... Sai quanta gente ci va? Quanta gente ci va? Eh, più di 100.000. Non ho capito, ma minchia, 10-20.000 sono stanti. Eh, 10.000? 10.000 in tre giorni, sì, secondo me. Per andare a incontrare tutti i creator che erano al district. Vabbè, sì, devi contare che sono tutti i creator. Eh, tutti, non era solo Evox, erano tutti. Mmh, sì. Sì, in Xis. Sicuro porto un barattolino di pesto per gli ezzer, per Marco e per Moro. Uh, chi è che l'ha scritto? E Moro non so sincero. Non ho capito. Grande capotasto. Pesto portato. E Moro non so sincero? Cosa vuol dire? Ah, per gli ezzer, per Marco e Moro non so. Ecco, scusami. L'importante è che siano cose piccole. Piccoline, sì. Guardate le pesto. Si è chiuso bene. Le devo metterne lo zaino. L'importante è che si è chiuso bene tutto, va beh, perfetto. La focaccia. Ma anche la focaccia dove... Cioè... C'era l'Ital che la portava sempre la focaccia libre. Sì, però appunto si mangiava al momento. Sì, ce ne andava un pezzo da mangiare lì, però a parte che tecnicamente non sarebbe neanche una cosa da fare, ragazzi, perché è un po' come a scuola, che non puoi portarti la torta fatta in casa per il compleanno. E che adesso i controlli sono maggiori, quindi... Cioè, a parte che appunto non so neanche se... Ho paura che magari non te lo facciano neanche entrare, eh, capotasto, occhio, perché se ho un barattolo di vetro, ho paura che non te lo facciano entrare. Quindi occhio. Se riesci, metterli in un barattolo non di vetro. Io arrivo giovedì sera e non posso portarvi niente. Tu che potresti portarci... Noi... Cosa che potresti portarci? I caralli napoletani. Una bella mozzarella di bufalo, così da mangiare su un posto. La pizza. Qualcuno che arriva dalla Sicilia, che ci porta i cannoli. Così siamo a posto, facciamo antipasto, primo, secondo, tutto. Siamo dalla Sicilia, che ci porta tutto. E con le adoro, esatto, una volta erano le patatine e le con le adoro. Madonna. Perfascio di Coulour Jones. Dai, usano due cannoli. Dai! Esatto, un paio di cannoli. Eh, però se no non li porti il giorno stesso, già... O forse un giorno resistono, ma non di più. Eh... Io ho pensato all'azola, ma ho dei dubbi sulla fattibilità. Ma non dovete portarci da mangiare. Anche perché, fate conto, se già solo in dieci ci portate qualcosa da mangiare... Già dobbiamo buttare via qualcosa. Eh, però vedi, se uno porta la focaccia, uno il gonzole, uno l'altro... Ho capito, sì. Ma a parte che durante la fiera non ci abbiamo neanche mai fame, perché tra uno sballottamento e l'altro... Io non ho mai mangiato la fiera. Sì, ma non ci sono tavoli alla Games Week, quindi non potete fare neanche quello. No, non ci sono tavoli. Cioè, o andate... Però devi ma prendere da mangiare da loro o niente. E non ci sono tavoli liberi, comunque, quindi... Qualcuno porta un tavolo. La birra era buona alla Games Week... Se la prendi nello stand dove hanno una birra buona... Sì, c'è i classici stand, o comunque ci sono delle birre artigianali abbastanza buone. Ma anche quella che abbiamo bevuto, Inksis... Tu l'avevi bevuta la birra? Non mi ricordo. Gibo l'aveva bevuta, perché me l'aveva offerta lì a Bergamo e non era malaccio. Vabbè, che era la Forza, quindi... No, a parte sì. Dipende dove... Non lo so. Cioè, se vai in quelli proprio della fiera della fiera, fan cacare da mangiare. Cioè, proprio cibo da autogrill, però quello zozzo. Ah, sì, è vero. Ci sono i piccoli stand, quelli che fanno da mangiare. Magari qualcosa di buono lo trovi pure, però... Portatevi in cazzi panino e... Poi la sera andate a mangiare fuori, cioè non è... Per un mezzogiorno potete anche digiunare, non è che... Sì, appunto, vi portate una merendina, qualcosa... Mangiate di più la sera, al massimo. Due taralli, non so. Devo mettere... A Vicenza c'era una birra al gusto di classica. Sì, della fan. I pronti posti per il ristorante una volta finito. Non devi fare le prenotazioni. Però bello. Il Milano ha prenotato per noi, andiamo dove ci pare. Che dovremmo vedere anche di prenotare poi... Io non so neanche se ci sono quelle sere, quindi... Mi ansia che mi sta venendo per ora uffa, ma per cosa? Ma per cosa, Gigu? Alla fine, sta lì, poi, intanto, salutati noi, sta lì con gli altri, andate a fare un giro di fiera, è finita già la giornata. Cioè, alla fine, sembra abbassa fretta. Se volete arriva già stiti in fiera, io non so. Non credo. Non credo. Non devi pagare il biglietto per entrare. Non credo che lo faccia. Farete il vlog della fiera per noi poveri stronzchi che rimaniamo a casa? Sì, sì. Ma come fai il vlog? Non credo. Perché no? Lo volete fare, ma poi non esce mai nulla. Ma non è vero, l'abbiamo sempre fatto il vlog. No, l'anno scorso non l'abbiamo fatto. Ma no, certo che l'abbiamo fatto. L'ho fatto io. Sicuro? Sì, sì. Ho preso la telecamera posta l'anno scorso io. Sì. Sì, sì, no, lo farò quello lì. Quando facciamo queste cose qui, io lo farò sempre. Ah, sì, è vero. Non me lo ricordavo. Proprio la vecchiaia questa, effettivamente. Non me lo ricordavo proprio. Sì, allora, sera 21, non so se riesco a stare con voi. Chi cena fuori, probabilmente. 25 sera è domenica. Che cazzo c'è domenica sera? Sì, è saluto, 25. Ah, 25 è sabato? Ok. E quando incontrò la prima unica volta, comunque, è stata beccare Morricorn al centro commerciale. E sfruffarli per farci fare la foto di gruppo. Dove? Maycorn al centro commerciale. Ma che centro commerciale potevamo essere stati? Eh sì, sì, si può veramente forse chiamare Just Eat. Che cazzo di centro commerciale? Il famoso Torre delle Salunga? No, non era. Ostia, però questo problema. Stai giocando a Formula 1. Ah, era... La Bicocca, allora. E quando uscirebbe poi il vlog della Games Week? Boh, non so. Eh no, perché poi è quello il periodo dei... Se va tutto bene dei video in Giappone. Vabbè che lo stavo vedendo lo scorso... Lo scorso Games Week... Il vlog è uscito il 21 dicembre, quindi magari... Vabbè sì. ...i video del Giappone sono già finiti. Un pochino mi ci vorrà. Perché se va tutto bene, appunto, riguardiamo... Tra 1, 2, 3 settimane potrebbero iniziare a uscire i video del Giappone. Si spero. Sì. Guardate se... Ho visto... Un po' di vedere al padiglione. Non un'altra sera. Beh, se era ingresso gratuito... Già ci può stare. Gratuito, sì. Eh, anch'io non vedo l'ora per i vlog del Giappone. Potrebbero essere... Dicevano 4 o 5. In base a quanto tagliano... I video. Quindi fino a Natale, quasi. Arrivano in Fiera Rocha. Lavoro spesso, ordiniamo il cibo. Anche perché i bar dentro costano un delirio. Sì. Ok, ma come fai a entrare? Scusami, eh? Eh no, te arrivano all'ingresso. All'ingresso, sì. Vuoi andare all'ingresso a prendersi. Che è lunga, eh? Andrà all'ingresso dalla... Minchia. C'è il corridoio che è lungo un chilometro. No, forse è l'ingresso proprio iniziale. Eh, ma devono passare i controlli lì. No, l'ingresso iniziale. Quello prima del corridoione. E quindi sono un chilometro di corridoio. E poi ho fatto la piedi per andare a prendere e mangiare. Ah, sì, l'oro. Vabbè, che magari c'è anche un altro ingresso dall'altra parte. Ah, dove ci sono gli hotel storti. Quindi quello a metà è... Eh, infatti, ok. Ok, sì, è dall'altra parte. Grande, cinese. Non ce la puoi fare tanto. A vestire da Veneto. Impossibile. Ho ancora penta aperto. Fatemelo chiudere. Ah, come è stata chill però questa line questa sera, eh? Tranquillo. Eh? Nel'altra parte del padrone può passare chiunque. Sì. Ah, ok. Lo controllano per la sicurezza. Poi fino a che non arriva proprio in fila dove controllano il biglietto effettivo. Sì, ma quello di Just Eat si mette a fare il controllo e poi passare fino a fare tutto il corridoio. Però volendo può farlo, sì. Però il corridoio magari se è in bici, almeno lo fa in bici il corridoio. Eh no, perché a un peso ti facciano passare con la bici nel controllo lì. Magari vedrò che è un rider, non lo so. Magari non lo so. Ma che bello lungo quel corridoio. Adesso poi se le mettono sempre in fondo, la mettono sempre agli ulti. Sì, non so perché... Siete la sotto, bastardi. All'inizio, subito, lì. Perché poi quando passi tutti gli altri padroni sono sempre vuoti. Vaffanculo. Io vengo in cosplay da rider allora, ragazzi. No, vabbè. O facciamo come l'altra volta, che dobbiamo ricordarci sta cosa, che è di entrare dal retro. Che là sei subito alla fiera. Cioè entri a metà, cioè al retro, sei già a metà del corridoio però. Sì, ma devi arrivare da lì. Abbiamo camminato sei ore prima di arrivare lì. Sì, perché lì eravamo usciti un po' strani dalla metropolitana. Effettivamente sì. Sì, effettivamente dal corridoio lungo, però effettivamente la metropolitana poi lì sotto subito. Vabbè che io entro con Gibo, quindi noi spero, perché noi attualmente non abbiamo ancora il biglietto. Io ribadisco questo. Infatti mi sa che non veniamo alla Games Week, ragazzi. Eravamo qui per dirvi questo. Chissà. Devo prendere quello in anticipo. Sennò se devo comprarmi i biglietti. Quello per entrare qui. Grazie, Lex Muse. Io ho il biglietto, quello da 45 euro, sinceramente non glielo do. Però se vado con Gibo e Vector, loro entrano prima. Ma perché loro avete preso il biglietto con lo Stonks? Non so, perché l'hanno preso con lui. Ti aspettiamo, bravi coglioni. Sarebbe essere bravi coglioni, eh. Scusami. Io sono per il popolo, quindi arrivo e faccio la fila con voi. Anche se mi danno il passo, ragazzi. Magari qualcuno è già lì alle 9, comunque... Vabbè, stiamo lì fuori, sì. Adesso vediamo se ci danno il passo, perché... Dai. Amici, ci vediamo loro domani mattina. Fidati. Dai, facciamo domani mattina Fortnite. Con sempre uno di voi, se vuole giocare. Domani sera... Domani sera vediamo FIFA oppure For The King. Va bene, ci sono. Dai. Intanto Sergis denunciata da parecchi in chat. Vedo, unlucky. Ciao belli. Ci vediamo domani mattina. Con... Aspetteremo qualcuno. Vediamo chi c'è. Con... Domani mattina, insomma. Ci sarà qualcosa. Cosa abbiamo detto di nuovo Fortnite? Dai. Su. Votiamo... Votiamo. La ridiamo Max? Che è un po' che non lo ridiamo. Oggi non fa neanche RP. Ciao belli. Ciao ciao. A domani. A domani. Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Grazie.